Nel corso della puntata Flavio Insinna manda gli auguri ad Amadeus. La parola della ghigliottina del 2 gennaio. È successo di tutto e di più nella puntata del 2 gennaio dell'eredità. Archiviata la sfortunata sfida della sera precedente. Barbara ci ha riprovato e questa volta si è ritrovata ad avere a che fare con dei concorrenti preparati e agguerriti. Sarà riuscita a sopravvivere fino a fine puntata oppure è stata eliminata. Il buon giorno si vede al mattino. E infatti già nell'arco del primo gioco non sono mancati siparietti e suspense. A pochi passi dalla ghigliottina Insinna ha avuto modo di nominare il suo collega Amadeus. L'eredità puntata 2 gennaio 2023. Flavio Insinna. Calma. Verso le ore 18.45 ha avuto inizio la seconda puntata di questo 2023 dell'eredità. In apertura. Un Flavio Insinna entusiasta ha accolto il numeroso pubblico di Rai 1 ed ha subito svelato i volti in gara. Oltre a Barbara, Stefania e Cristiano, si sono aggiunti anche Giada da Firenze, Antonio da Vallefiorita, Catanzaro, Alessandro da Roe e Valeria da Gallarate, Varese. Chi sarà riuscito a spuntarla? Il primo gioco. Ossia il, continua tu. È solito andare avanti per le lunghe ma questa volta sembrava non finisse più. Ad un certo punto il conduttore romano ha esclamato, calma, ce la faremo, dobbiamo farcela. Il pubblico presente in studio si è mostrato divertito dalla situazione intricata che si è venuta a creare, e, quando finalmente si è riusciti a completare il gioco, si è elevato un fragoroso applauso. Gli auguri di Flavio insinna al collega Amadeus. Al gioco delle quattro date sono spuntati i professori dell'eredità e con loro le risate sono aumentate. Alla fine si è arrivati al triello, che ha permesso a Barbara, Stefania e Alessandro di riconfermare la loro presenza nel game show più seguito del momento. Chicche d'attore, curiosità, italiano, arte, Sanremo, storia e scienza. Questi argomenti hanno messo alla prova le conoscenze dei tre concorrenti. A proposito di Sanremo, Flavio ha colto l'occasione di fare gli auguri al collega Amadeus per l'imminente partenza del Festival Canoro. Montepremi è parola vincente del 2 gennaio dell'eredità. Barbara è riuscita a conquistare l'ultimo posto disponibile per la finalissima, e si è accomodata al tavolo della ghigliottina con un Montepremi davvero alto. Dopo aver dimezzato fino a 80.000 euro, la campionessa si è ritrovata a riflettere sulle cinque definizioni, al fine di scovare la parola che combaciasse perfettamente con loro. Dopo averci pensato per bene, tra, lavoro migliori speciale ordine esterno, la concorrente ha scommesso su, offerta. Una volta ascoltate le spiegazioni di Barbara, Flavio Insinna ha dovuto darle una brutta notizia. La parola che l'avrebbe fatta vincere non era, offerta, bensì, giorno. Insomma, un brutto, giorno, per Barbara, che dovrà ritentare la sorte nella prossima puntata dell'eredità.